Emersa dalla prima edizione del Grande Fratello, nell'ormai lontano 2000, Marina La Rosa è stata una delle prime icone dei reality di casa nostra. All'epoca le appiccicarono il soprannome di Gattamorta, ma successivamente ha dimostrato intelligenza e sensibilità. Passata anche, nel 2016, per L'Isola dei Famosi, torna dal novembre del 2024 al reality show, grazie al revival della Talpa, in onda su Canale 5. Per l'occasione conosciamo meglio la Marina La Rosa in privata, dall'amore ai figli. La vita privata di Marina La Rosa Marina La Rosa nasce a Messina nel 1977 e cresce in una famiglia siciliana tradizionale con una madre insegnante, un padre impiegato di banca e quattro fratelli. La sua vita cambia radicalmente quando nel 2000 partecipa alla prima edizione italiana del Grande Fratello. Con il suo atteggiamento disinvolto e un modo di fare ammaliante, Marina si guadagna il soprannome di Gattamorta e, anche se viene eliminata dopo 72 giorni, lascia un segno indelebile nel programma. Uscita dalla casa più spiata d'Italia, riceve proposte per partecipare a numerosi programmi televisivi e, con una certa audacia, accetta di posare per un calendario sulla rivista Max, determinata a non fermarsi al semplice ruolo di personaggio da reality. Marina si iscrive nel 2001 a corsi di recitazione per affinare le proprie abilità e intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo e successivamente la vediamo apparire nella storica soap Beautiful, seguita da partecipazioni in Produzioni nostrane come i Carabinieri e Un posto al sole, dove trova un'opportunità stabile. Nel 2004 debutta a teatro nel Nellettra, diretta da Geppi Gleigeses e prodotta dal teatro stabile Calabria. Nel 2006 partecipa al talent show Reality Circus e poi, dopo una pausa dalla televisione, ritorna nel 2015 come ospite al Maurizio Costanzo Show. Nel 2016 inizia un nuovo percorso come opinionista, nel 2019 si lancia in una nuova sfida come concorrente all'Isola dei Famosi, dove arriva in finale. La vita sentimentale di Marina Larosa è ricca di sfumature e trova la stabilità con l'avvocato Guido Bellitti, che sposa nel 2010 in una cerimonia tenutasi a Teano. La coppia ha due figli, Andrea Renato, nato nel 2009, e Gabriele, nato nel 2011. Dopo la nascita del primo figlio, Marina decide di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo per dedicarsi interamente alla famiglia. Nel 2021 la coppia si separa e la donna condivide il dolore che ha accompagnato questa scelta, descrivendo come la sua crisi interiore si fosse manifestata anche fisicamente. Un calo di peso drammatico le aveva fatto comprendere che era il momento di ricominciare. Affronta la fine del matrimonio con la consapevolezza che, anche se dolorosa, era la decisione giusta per entrambi. Dopo la separazione, in alcuni momenti ironici e riflessivi, pubblica storie su Instagram dove scherza sulla sua vita sessuale e, in un'intervista, ammette di trovare difficoltà nel trovare qualcuno con cui costruire un'intesa mentale prima ancora che fisica. Rivela che, per lei, il cervello è il vero organo del piacere, senza una connessione intellettuale, non riesce a provare attrazione. Questo, unito a una considerazione troppo bassa dell'uomo di oggi, la porta a vivere una fase di introspezione e a rimanere per ora lontana da nuove storie sentimentali. Dopo il diploma linguistico, ha conseguito una laurea in psicologia, mostrando il suo interesse per la mente e le dinamiche umane. Senza, comunque, respingere nuove offerte provenienti dal mondo della televisione, dal novembre del 2024 la vediamo tra i concorrenti della nuova edizione della Talpa. E voi cosa ne pensate?